In Content University abbiamo deciso qualche anno fa di creare una Masterclass di Copywriting che fosse molto superiore alla media dei corsi che ci sono sul mercato e quindi abbiamo ascoltato tante persone e li abbiamo intervistate proprio per avere idea di cosa mancasse. Abbiamo ad esempio capito che mancavano i webinar live nella maggior parte dei corsi e quindi abbiamo creato un corso con 70 ore di corsi online, credo che sia il più grande ancora online sul mercato adesso, e poi però anche più di 20 ore di webinar live dove si fanno gli esercizi. E poi ci siamo chiesti quali sono le recensioni che vorremmo sentirci dire e abbiamo lavorato proprio su queste recensioni, immaginate, che sono arrivate. Vorrei condividerle con te in questo video. La prima recensione, la più bella secondo me è questa, la completezza del corso è strabiliante. Ecco, questo è quello che volevamo fare, volevamo dare un corso veramente veramente completo. Perché? Perché non volevamo che tu uscissi dal corso di copywriting con ancora dei dubbi e soprattutto con ancora dei corsi da fare. Una volta fatta una masterclass da Content University non ti serve nient'altro, almeno puoi fare altre specializzazioni, ma insomma le masterclass sono così complete, così intense che hai tanto da sperimentare. E poi mi piace anche che Federico ci dice che abbiamo insegnato loro a lavorare in modo strategico, perché è quello in effetti che facciamo, soprattutto nei webinar live. Vedi che anche Arianna ci dice che è un corso davvero ricco di contenuti, completo e estremamente pratico. E ci piace di vedere che migliora la capacità dell'iscrittura visibilmente, fin a subito. Ecco, questa è un'altra cosa che abbiamo studiato proprio nella struttura del corso. Si parte da zero, ma si accelera velocemente, non lasciando nessuno indietro ovviamente. Perché? Perché volevamo che le persone avessero subito dei benefici e li potessero poi utilizzare, dato che sono quasi tutti professionisti e professionisti, oppure imprenditori e imprenditrici. Un'altra cosa che volevamo mettere nella masterclass era la praticità. Tanti esempi, tanti case studies, appunto i webinar live, che poi portano dei brief autentici alle persone che discutiamo insieme. Grazie a Nicola che ce l'ha fatto vedere, che ci dice finalmente qualcosa di pratico, calato nella realtà. Capire come scrivere diventa davvero facile. Ecco, un'altra cosa che volevamo. Capire come scrivere, che è una cosa difficile, diventa facile. Questo era quello che volevamo raggiungere con la masterclass. Beh, sono cinque mesi intensi di lavoro, insomma. Diventa facile capirlo, però, insomma, c'è un po' di lavoro intenso in mezzo. E infine Silvio ci dice tanti argomenti trattati e ben approfonditi. Ecco, un'altra cosa. Non abbiamo trattato argomenti superficiali. Non mi piace quando si tratta un argomento giusto per metterlo nel programma. Queste sono alcune delle recensioni che abbiamo ricevuto per le nostre masterclass di copywriting. Se vuoi andarle a vedere puoi provare una prima parte del corso gratuitamente, che tra l'altro ti dà degli esercizi di copy per il tuo brand personale. Quindi ti è utile anche se poi non farai il corso. Entra gratuitamente nella intro di copywriting su contentuniversity.it e se hai bisogno di altre informazioni ovviamente puoi chiamarci e fissare una call con noi per avere appunto maggiori informazioni su qual è la masterclass migliore per te. Ciao!